salve amiche ed amici fedelissimi che mi seguite in facebook e in youtube qui il vostro capitano santen chan che vi inizia a fare la sua prima video diretta in facebook come capitano santen chan stiamo ancora comunicando alle persone che se in diretta questa operazione potrebbe richiedere un minuto però già vedo che c'è una persona diretta la saluto anche se qua non mi dicono chi sta in diretta passa al dito per vedere i commenti la persona diretta se ne andata sono rimasto da solo vedrete la registrazione dopo allora colgo l'occasione per salutare un mio caro amico gerlando fiorenza mi hanno chiesto di parlare di lui beh io posso parlare di gerlando fiorenza e soltanto dalle cose che vedo e condivido con lui in facebook perché poi di persona non ho il privilegio di conoscerlo quindi caro gerlando fiorenza che ha il nome di un santo teutonico guerriero che poi è stato adottato come santo in spagna ed è probabilmente grazie al regno borbonico delle due sicilie è passato al sud quindi c'è un santuario del san gerlando a sud e poi è passato come patronimico per le persone ti mando i miei migliori saluti e vi dico a tutte e tutti voi che gerlando fiorenza e lo dico qui in questa diretta è proprio un bravo ragazzo e quindi colgo l'occasione per dire anche a gerlando fiorenza che non si perde i miei ultimi video tutti voi volete il link ma basta che andiate a guardare nel muro del mio facebook e di video che ho girato ne vedrete tanti scusate se non guardo sempre in camera ciao emiliano bono come va stavo dicendo che gerlando fiorenza è proprio un bravo ragazzo un carissimo amico e poi che andate a vedere il mio wall il mio muro di facebook per vedere tutti i video che ho caricato purtroppo io non c'è uno stick per le selfie quindi uso il mio braccio e pesa il cellulare quindi vendrà una diretta un po mossa io avrei sempre voluto e approfitto di fare la diretta perché puoi fare un video largo invece se carichi il video a youtube in facebook ci tarda lo stesso tempo che in youtube invece facendo una diretta per facebook perché non so come fare una diretta dal cellulare è impossibile per youtube allora faccio il vivo il mio primo live di capitan santin chan in modo che posso parlare tanto poi quando smetto facebook lo editarà come potete vedere da voi care amiche ed amici ciò delle biblioteche nella mia nella mia camera perché io leggo abbastanza anzi se potete vedere la parte di sotto pure e piena di libri in questo caso dell'astrolabio ubaldini e delle edizioni mediterranee su filosofie orientali baghavad ghita mandyuka upanishad eccetera 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 c'è anche di castaneda l'opre di dante ma è tutto così anche qua ci sono dei libri della delfi mediterranei mediterranei tibet poi di un'altra casa che non so come della marsilio rimettere i libri in diretta è un po difficile vabbè non vi sto qui a fare vedere tutti i miei libri e le mie tecche di libri devo guardare in camera perché sarebbe tanto tempo tanto tempo che passerei solo a farvi di vedere dei libri se avete degli interessi letterari ditemi quali sono che io o farò una diretta in facebook perché poi rimane il video nel mio profilo oppure farò un video in youtube ma mi raccomando guardate il mio canale di youtube per vedere i miei ultimi video o per vederli tutti poi se avete un canale di youtube ciao alessandro mi anni come va stavo dicendo che gerlando florenza o fiorenza gerlando fiorenza è un bravo ragazzo e poi ho iniziato a parlare del mio interesse letterario ed è il fatto che faccio una diretta la mia prima diretta come capitana santenchan per non caricare un video che ci metterei troppo tempo bene sono contento alessandro mi anni che ti va tutto bene anche a me magari vedrai questo video dall'inizio mi raccomando nel mio wall di facebook vati a cercare i miei ultimi video di youtube perché e vabbè che ci possiamo fare e così la gente si accetta per quello che è certo non come in shiming si deve accettare ma non nel senso più letterale del termine grazie caro amico sono contento che mi segui e poi facebook mi ha detto con che gratulazioni questi è il tuo video in diretta più commentato finora sono contento che facebook mi dica che il mio video più commentato finora anche se evidentemente quelli di facebook non sanno coniugare perché questi è il tuo video in diretta quindi non i casi non li capiscono sta guardando ci sono dei problemi tecnici ogni tanto e mi dicono si sospende la diretta e poi mi dice complimenti questo il video con più mi piace mi fa allora che ho dei problemi di connessione non vi scordi che gerlando fiorenza è un bravo ragazzo e mi hanno detto di fare un video su di lui ma io io conosco solo ciò che appare nel suo profilo di facebook per cui vi posso dire da quello che comparte con me che è un bravo ragazzo poi non riesco a capire perché a causa ogni tanto appare un messaggio di facebook che mi dice che ci sono dei problemi di connessione bu mi riposto a sgranchi l'altro anzi mi sgranchi o l'altro braccio perché mi sta granchi e poi non so ci sono dei problemi di connessione ogni tre secondi e io spero che qualcosa si possa vedere probabilmente ci saranno dettagli impressionanti nel video però vabbè che si può fare allora ancora una volta vi faccio vedere anche se la mia cameretta sta in disordine che ciò tanti libri perché leggo molto e mi piacerebbe condividere i miei interessi letterari e con tutte e tutti voi soltanto che mi dovreste chiedere di quali libri e volete che vi parli perché io vi potrei parlare di quel libro di quel libro di quel libro di questo di quello di quello di quelle enciclopedie lì di quei libri però non so ditemi qualcosa qua per esempio ciò di letteratura upadinsharika vedica buddista hindu della astrolabio ubaldini ciò anche di castaneda ciò la rivoluzione umana della so kagakai ciò di aleister crawley ciò tanti libri chiedetemi voi pirandello non so cosa vi piacerebbe come tema o come autore o come opera io magari ce l'ho e ve la commento tornando vediamo se posso tornare tornando a noi come disse qualcuno e leggo di tutto sono ateo ma ho letto di antropologia e di etnologia opere sulle religioni anche se sono ateo per esempio qua troviamo se lo trovo poi vendrà un video una pizza diciamo largo perché ecco se qua c'è storia universale che un libro molto vecchio e poi vi volevo fare vedere un altro ma ne acchiappone a caso per fare vedere che sto perdendo tempo che poi io stesso quando cerco un libro in questa biblioteca maledetta mi scordo quale libro stavo cercando quindi alla fine ne leggo un altro magari addirittura o questo qua manuale rossa croce che per me della massoneria è una grande corbelleria cosmica però vabbè l'ho letto per curiosità poi che altro dirvi svevo ne ho letto uno ho letto quelli di l'op san grampa che sono tutte delle cose è stato l'occulto l'occultismo l'esoterismo qualsiasi cosa soprattutto le opere di elemire zolla il dio dell'ebbrezza ed altre di elemire zolla ho letto molte di reini molte opere di reini per quanto riguarda l'occulto pratico però ecco ho letto un libro che veramente ho buttato nel cesso 25 mila lire poi l'ho comprato negli anni 90 o prima ecco i misteri dell'occulto una grande cacchiata di libro se lo vedete usato o che lo vendono lo spacciano per meno di 25 mila lire di 12 euro e mezzo non so non lo comprate perché sono tutte quelle cose del dialogo a distanza della terapia dei tarocchi insomma una cosa è leggere dal punto di vista antropologico e culturale queste cose un'altra e invece quando ti vogliono presentare questi argomenti come delle cose certe delle cose vere però ecco che non riesco a trovare quello che volevo farvi vedere e vabbè che dire perché come diceva quello di aiazione vedere per credere per credere però va bene del dalai lama ho letto molte del dalai lama molte cose del dalai lama del tibet e poi è probabile che il libro lo trovo quando non lo cerco più però è così erano le apocalissi gnostiche i vangeli gnostici e queste cose qua che da qualche parte stanno ma acqua ecco i vangeli apocrifi della inaudi tascabili poi come potete vedere qua ci sono le opere di elemire zolla qua tutte queste 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 e fino qua e poi ne ho un'altra quindi come dire gli argomenti non mi mancano c'è anche molte fotocopie perché avevo fatto circa un anno di filosofia all'università poi ho dovuto lasciare su sempre le cose a parte sociologia storia eccetera ma anche renegenon e liade il simbolismo per esempio di jean river la storia delle società segrete e quindi sono contento di aver fatto questa diretta maria armelli ciao certo che ti saluto come vedi ho detto alla fine che gerlando fiorenza è uno dei nostri migliori amici è un bravo ragazzo per quanto riesco a conoscerlo da facebook logicamente per tutte le cose che ha condiviso con noi gerlando fiorenza è un bravissimo ragazzo poi qualcuno mi dice michele pillos su saluta anche a me carissimo amico michele pillos su come stai grazie di seguirmi e mi raccomando guardami in youtube poi facebook mi ha detto questa è la tua diretta con più like che fatto sì sto benissimo amico per fortuna la salute non mi manca e sono contento che tu stia bene allora chissà da quanto tempo sto in diretta poi qua c'è un pulsante schiacciamolo un po poco sarà popcorn acide che così è come vedono quelli che hanno preso l'acido che sono l'incredibile urca che caldo che c'è no è meglio che mi devo la giacca poi che faccio va bene non si è visto l'ho buttata perché sarebbe l'incredibile urca fatto da giorgio bracardi no carta frega vabbè basta di questo colore che mi trascina un po vabbè che dire care amiche ed amici poi qua c'è testo per scrivere qualcosa e che ho fatto che ne so come lo cancello vabbè così sto peggiorando come cancello questa schifezza che ho messo a nulla cancella a meno male era rimasto uno sgorbio ancora mi devo organizzare per fare gli effetti speciali vediamo cia o cancella perché perché non vabbè non si può scrivere sotto della linea perché non c'è venuta team perché non c'è venuta team va bene non vi rubo più tempo ho voluto fare questa diretta qui il vostro capitano san ten cian un saluto speciale al nostro amico gerlando fiorenza michele pillu pillo su michele pillo su che ha partecipato della conversazione e la nostra amica mari armeli che è anche partecipato della conversazione il nostro amico alessandro bianconi lo saluto che ha partecipato della conversazione pietro avella grazie di aver guardato il video alessandro miani grazie ti e pan già di stia pan zarina e scusami se pronuncio male grazie di avermi visto davide ammirante grazie di avermi visto e poi emiliano buono grazie di avermi visto adesso vi devo lasciare se no poi sono tutti saluti io volevo parlare di qualcosa mi sto stancando di grazie mari armeli questa calcolatela una diretta sperimentale poi condividete la fra tutti i vostri amici ciao